Tu quanti anni hai? Anna, giusto, perché io con i nomi sono un disastro. 26. Ah. E che fai? Voglio dire oltre a questo. Non molto. Cioè, in realtà faccio un po' di tutto. Faccio assistente alla produzione, poi piccoli lavoretti video, sì, cioè, vabbè, poi casting, sempre come assistente. No, no, non è già atterrato. Ok, sì. Ciao. A dopo, ciao. Ciao. Papà, ciao, come stai? Bene? Sai cos'è che mi fa incazzare? Io non mi ho raccontato niente, Bruno. Tu da quanto tempo avevi ci pensavi? No, vabbè, se per quello c'è di peggio. Una volta, per una pubblicità, sono dovuta andare a prendere dei topi di Praga. Topi? Eh. Topi di Praga? Sì, infatti non lo sapevo neanche io, sono dei cani. Ah. Ma lo vedi quanto sei carina quando sorridi? Invece stai sempre con quel muso imbronciato. Ma sorridi, su che sei ancora giovane, divertiti. Sì, vabbè, ma in realtà per fare il mio lavoro io dovrei andarmene via da qua. Ehm, poi non dormo. Sì, ma no, ho smesso, sì, di dormire, è già un bel pezzo. Ma, 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 ma perché? Perché? Perché io passo tutto il tempo rinchiusa in garage Per, per, per perfezionare il mio prototipo. E B2B, e B2C, e B2B, e B2C, e finalmente... Manuela, ciao, ascoltami un attimo. Sono nei casini. Adesso che tua sorella si trasferisci per vedere i miei nipoti dovrò aspettare Natale. E pazienza, mamma, tanto non li sopporti. E che gli fanno fare tutto quello che vogliono. E' un laboratorio video con i ragazzi dell'artistica. Tu invece come ti chiami? Anzi no, lasciami indovinare. Anzi no, lasciami indovinare. Anzi no, lasciami indovinare.